Un progetto di recupero della vita nel borgo di Pietrarubbia passa attraverso una serie di laboratori artistici. Ci racconta di più Vincenzo Varagona. Nuova vita per Pietrarubbia. Dopo la stagione del metallo nel segno di Arnaldo Pomodoro che nel borgo ha lasciato gran parte di se stesso determinandone negli anni 90 la rinascita, la nuova pagina è scritta dal binobio Musica e Cucina, con laboratori che partiranno a breve per riuscire a fare risuonare questo posto come un tempo. Sonoria nasce con Pietrarubbia, nuova associazione nata apposta, insieme al maestro De Feo. Maestro De Feo che è una ricchezza, una ricchezza culturale, musicale, musicista, in cucina è un mago e insieme a lui parte appunto questo progetto che dovrebbe essere duraturo nel tempo. Perché suona questa pentola? Questa è una pentola sonora, il progetto sonoria del borgo di Pietrarubbia che vuole rendere un intero borgo sotto forma di musica. Riprendiamo i temi che sono stati propri sin dal rinascimento in questo borgo di costruzione dell'elemento metallico per trasformarlo e riportarlo in una dimensione sonora che appartiene diciamo ai percorsi dei laboratori che stiamo attivando. Una piccola descrizione di questi che saranno i laboratori. I laboratori, sì. Guarda, io siccome costruisco molti strumenti, li costruisco io e quindi questo conubbio con Raffaele, con Pietrarubbia, con la storia di Pietrarubbia, con i metalli, ceramica, eccetera, eccetera, sono poi esattamente i materiali che io poi utilizzo nella mia vita, nella mia vita musicale. E quindi è un luogo proprio perfetto anche per me e quindi sicuramente interagirò con questi elementi, con le persone che verranno uguali.